Ci sono anche i grandi formaggi lombardi tra i prodotti made in Italy che un'eventuale ratifica dell'accordo CETA di libero scambio tra Unione Europea e Canada metterebbe in pericolo. È l'allarme lanciato dalla Col di Rettico Molecco che commenta positivamente l'annunciato respingimento dell'accordo in Parlamento. Non possiamo permettere che i nostri prodotti siano messi a rischio, dice Fortunato Trezzi, presidente della Col di Rettico Molecco, nel nome delle centinaia di allevatori che dal territorio ne alimentano la produzione con il loro latte di alta qualità. Bene, ha fatto il governo ad annunciare lo stop dando corso a quanto sostenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini consumatori. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha infatti annunciato che a breve l'accordo sul CETA arriverà in Parlamento e che se rimarrà così com'è la maggioranza lo respingerà. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'Italia, Col di Retti ha portato avanti una vera rivolta popolare su tutto il territorio nazionale, dice Trezzi. Hanno aderito anche numerosi sindaci lariani. Secondo Col di Retti, con il CETA per la prima volta nella storia l'Unione Europea legittimerebbe in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti made in Italy più prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni che sfruttano i nomi delle tipicità nazionali. Il CETA mette dunque a rischio la qualità eccellente delle produzioni del Comasco e del Lecchese, oltre che dell'intera regione, conclude il presidente Trezzi. Nei nostri territori si munge il latte destinato alla produzione di parmigiano reggiano e del gorgonzola, che hanno un ruolo storico e produttivo di particolare rilievo.